Grazie a tutti che buon profumo ma questo Ale che fa di tutto eccezionale eh Ale fai di tutto vai proviamo grazie Ale vai grazie 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 occhio che scotta Flora se vuoi mettere la pigiata si guarda ce l'anno adesso guarda 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 la bombola grazie Ale buongola 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 cia 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 stacco stacco formaggio formigiano grana pecorino io sono grande io sono grande e buona buona bellino chittà signora i limoni i limoni i limoni e buona buon appetito buon appetito grazie grazie a te buon appetito buon appetito no non vi fidate se non vi fidate ma non vi fidate ma non vi fidate ma non vi fidate ma non vi fidate sei il gioco ma ricordate no ragazzi mi facevo la fib come è non vedo come è come lo fai grazie ciao ragazzi è buona? buonissima non vedo nessuno morto quindi tutto ok come on for the govart guardiamo i bike guardiamo il prossimo guardiamo i podcast il nostro show guardiamo laglia guardiamo la buona nonorniamo ho caldo grazie ho detto che secondo me voglio vedere senza buon maggio ma questa è la doppietta per te la tristia è passata avanti la puoi scolare la pasta no 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 questo oh il formaggio è cozzo ma le cozze non sono pesce no 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 Grazie a tutti.